Sono trascorsi i giorni dalla vincita milionaria realizzata al bar Paradiso di Stelle di Atripalda e dopo l'esploare Super Enalotto sono tutti in fila al bar Tabacchi, alla bacheca dei sistemi per la Dea Bendata. Dei milionari nessuna traccia, dei sei fortunati che hanno vinto ognuno 4 milioni e 100 mila euro, come dichiarato Mario Coppola, che insieme al figlio Armando gestisce il Paradiso di Stelle. Uno che si ricordi, magari qualche cliente più abituale degli altri, a me parebbe piacere, un fiore o qualcosa di simile, anche oltre il fiore, non è che stiamo qua, non ci tiriamo indietro per queste cose. E se da un lato c'è la curiosità di conoscere i milionari, dall'altro la domanda che molti si stanno ponendo è come gestire una vincita di tale portata. Norberto Vitale a 10 minuti più 10 lo ha chiesto a Roberto Creddo. Con riguardo gli investimenti finanziari, diciamo che la tassazione è diversa a seconda dello strumento, ma direi che l'aspetto più importante, prima dello strumento, è stabilire degli obiettivi. Nel senso che per gestire bene una somma così importante, la domanda più importante che il risparmiatore deve fare, la deve fare a se stessa, cioè stabilire gli obiettivi. E da tenere ben presente un altro aspetto. Un attimo dopo l'estrazione, quindi, della vincita, quei 4 milioni e 100 mila euro sono diventati 3 milioni e 300 mila euro, in quanto tassati alla fonte del 20%, come spiegato da Antonio Romano. Se parliamo di investimenti di natura finanziaria, che eventualmente possono consentirmi di vivere di rendita senza intaccare o intaccare limitatamente il capitale, sui rendimenti c'è comunque un prelievo fiscale. Ed è un prelievo normalmente alla fonte, nella misura del 26%. Questo cosa significa? Che posto mille in termini di rendimento dal mio investimento, avrò una tassazione del 26% di 260, senza ulteriori particolari adempimenti.